Operazioni di partenza che sono cominciate per il premio Cairn Rouge, TQQ di giornata su 1200 metri in pista dritta, partiti in questo momento, sono in 11 al via dopo il ritiro di Prussia Way e non c'è un favorito netto, vediamo subito come si muove la corsa in particolare dall'interno e guentamente, accolto una buona partenza insieme a Xaera che poi si sposta più al centro della pista dove ci sono tutti quelli che decidono di galoppare su una fascia forse migliore, Sweet Force O'Mine capeggia questo gruppetto, all'esterno con la giuba viola c'è Besac, in mezzo ai cavalli con la giuba gialla e nera, il mantello grigio Chiara Prensessa, al cui esterno galoppa Duke Ray che si presenta subito minaccioso, in quarta posizione troviamo anche Holiday Black, di dentro ci va Petit Bonbon, c'è un ventaglione bello spiegato quando mancano 500 metri dal traguardo con Sweet Force O'Mine ancora davanti, all'esterno si presenta Duke Ray, poi Chiara Prensessa che decide di andare di nuovo sulla corda, dall'esterno di tutti ci sono Besac ed Holiday Black, a 200 dal traguardo, Duke Ray è in vantaggio nei confronti di Holiday Black che adesso sferra l'attacco, Holiday Black che va in continua percussione, viene a vincere la TQQ di giornata nei confronti di Duke Ray e poi Chiara Prensessa, Besac e guentamente. Ma c'è stato uno show ed è quello di Holiday Black che ha pagato il 4% qualche giorno fa, oggi era in perfetto assetto da guerra, torre sulla sinsella al doppio in giornata, i colori e il training sono quelli di Massimiliano Narduzzi, la scuderia della scuderia Claudia di Capparella, vince il numero 9 dello schienamento nei confronti del 3 Duke Ray, al terzo posto 7 Chiara Prensessa, poi al quarto abbiamo visto transitare il numero 4 Besac e poi dovrebbe essere il numero 1 e guentamente 93741. vediamo di nuovo le fasi finali, vittoria per Holiday Black che dopo il secondo posto dell'ultima uscita mostrando miglioramenti è riuscito a vincere la prima affermazione in carriera per il figlio di Black Mambazo, secondo posto per il numero 3 Duke Ray, al terzo confermiamo Chiara Prensessa, al quarto Besac e al quinto numero 1 e guentamente, corsa particolare anche per Concezione, vince Holiday Black quota 7 e da Cappanelle per oggi è veramente tutto, vi diamo l'appuntamento alla prossima giornata di corso e domani con il trotto, con il galoppo, ci vediamo nella giornata di domenica, buon proseguimento di Sorate. Grazie.